Il Napoli ha svolto una sessione di allenamento al centro di allenamento SSCN Konami questa mattina, in preparazione per la prossima partita contro il Genoa, e sono state rivelate importanti novità. Ma prima di proseguire con i dettagli, iscriviti qui al canale e attiva le notifiche per non perdere alcuna novità sul Napoli. La sessione mattutina è stata suddivisa in diverse fasi. Inizialmente, la squadra si è concentrata sulla preparazione fisica intensiva. Successivamente, hanno dedicato del tempo al lavoro sulla possessone palla. In seguito, i giocatori hanno partecipato a una partita su campo ridotto. Inoltre, il gruppo offensivo ha svolto esercizi di finalizzazione. Per quanto riguarda i giocatori, Lobotka è tornato dopo gli impegni con la Nazionale, mentre Matteo Politano ha svolto un allenamento personalizzato sul campo. Dopo gli esami medici, la preoccupazione iniziale riguardo all'infortunio di Politano sembra essersi attenuata leggermente. Secondo il Corriere dello Sport, l'infortunio sembra essere meno grave di quanto inizialmente temuto, ma la gravità effettiva dipenderà dalla risposta del muscolo alle terapie. Quindi, tifoso, l'eventuale assenza di Politano potrebbe influenzare le prestazioni del Napoli nella prossima partita? Lascia un commento qui sotto e resta sintonizzato per le prossime aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.